Confcommercio lancia un nuovo servizio ai propri associati. Confcommercio, d'altronde questo è il suo ruolo, è un'organizzazione che crea opportunità. Io credo che questa opportunità del franchising sia un modo, un mezzo per avvicinare, informare e far capire che si possono sviluppare dei filoni importanti nel franchising e quindi Confcommercio si pone in questo ruolo di accompagnare, informare e io credo che questo ruolo di un'organizzazione creare le condizioni e le opportunità spiegare a chi si avvicina che ci sono delle opportunità di sviluppo nel franchising e noi abbiamo il ruolo di spiegare e darle come opportunità.